I cibi tradizionali ti hanno stufato? Vuoi un guizzo di novità nella tua esistenza culinaria? Allora, non puoi certo perderti il curry azzurro dei Dragon Quest! Sorprendi il tuo palato con un'esplosione di gusto blu, grazie a questo piatto che già solo dà la presentazione, a metà tra un budino avariato e una medusa spiaggiata, ti farà fare un figurone coi tuoi ospiti, che potrai stare certo, non si imbucheranno mai più a cena a casa tua! No, no martini? No party! Curry di Dragon Quest, imperdibile proprio! Ciao ragazzi! Dopo il meraviglioso curry dell'altro giorno che ho preparato con Fujiko, che è venuto buonissimo, facciamogli vedere anche dei curry che invece non sono venuti così buoni, quindi oggi sarà il video prepariamo il curry di Dragon Quest. Io sono Sebastiano Serafini, per chi non mi conoscesse, io faccio video tutti i giorni alle 14 sul Giappone, quindi se vi piace il Giappone iscrivetevi, perché no? E oggi vi farò vedere questo piatto buonissimo che ho preparato con l'amica Mary, ed è venuto veramente, beh, un sapore particolare, buono! Tra l'altro questo curry di Dragon Quest è stata una buona battaglia, perché quando sono andato a comprarlo al Village Vanguard, se non vi siete visti il video del Village Vanguard male, andatevelo a vedere, perché questo negozio è pieno di cattuate, se volete vedere ancora più cattate potete anche andare a vedere il mio canale di Sebastiano Acasso, che è un canale dedicato a tutte le cattate che vi succedono. In ogni caso, vabbè, quindi ho comprato al Village Vanguard, c'era da scegliere tra il curry di Conan, il curry di Resident Evil, il curry vietato ai minorenni, il curry di cacca, ma tra tutti io ho insistito per scegliere quello di Dragon Quest. In ogni caso, la cosa più bella del curry era sicuramente la confezione. La confezione ve la regalerò quando arrivo in Italia, se c'è qualche fan di Dragon Quest, scrivetemelo qui sotto, e magari vi invierò la scatola del curry ufficiale. Secondo me, se mangiate, la scatola è più buona di quello che c'era dentro. Comunque, non voglio rovinarvi la sorpresa di quanto è buono, e quanto è kawaii, e quanto è bello questo curry, veramente buonissimo. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, noi ci vediamo domani alle due con un altro video, e grazie mille per essere stati con me. Ciao e buona visione! Ecco qui, siamo qui a fare il curry. Che curry è questo? È un curry blu. Hai mai mangiato un curry blu, Mary? No, è la prima volta. Sì, si è scritto slime curry. Penso che slime forse è un personaggio di Dragon Quest, sarà questo? Sì. Tu lo conosci? Forse è la goccina di Dragon Quest. Aspetta, accendiamo la luce. L'accendiamo? Sì, 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 lo conosco, Dragon Quest, e conosco lo slime che dovrebbe essere la goccina, no? Eh sì, allora sei pronta? Secondo te sarà buona? Mi sembra buonissima. Sì. Allora, vediamo come si prepara. Innanzitutto vi dico già che c'è 252 calorie, costa 10 euro. Vuoi aprirlo te o lo apro io? Non mi vale la pena. Dai, aprilo tu, visto che... Apriamo il curry. Dove si apre? Forse da qui? Perché non voglio tenere la scatola originale. Magari potrei fare il giveaway della scatola. Se qualcuno di voi vuole la scatola originale del curry fatto da Sebastiano Serafini, ve la regalo, ve la metto adesso la... Cosa c'è scritto qua? Crime curry o arowarimashita? Vuol dire che è apparso il curry. Crime, vai. Allora, comunque, penso che questo curry si farà come tutti i curry, no? Dovvero riscaldare dentro l'acqua. Sì. Taberu? Aghiru? La selezione. Lo vuoi mangiare? Mita meura niva. Ok, ok, ok. Ma non c'è scritto come si prepara. Ah, ok, mi si è caricata. No, poi come si mangia? Comunque qua c'è scritto che... Dobbiamo metterlo in una ciotolina e lo metterai qui. Questa qua è la ciotolina di Rirakkuma, che è praticamente... non so se è il figlio o il nipotino di Rakkuma. La conosci Rirakkuma? Sì. Con Rirakkuma, che è quello più piccolino. Ho dovuto collezionare tipo 30 bollini all'Owson, però ne sono... Oh mio Dio, è blu. Mamma mia. Che schifezza. Sembra puffo, sciolto. 10 euro è costato questo, quindi spieghiamo che sia... Ma tra l'altro io pensavo fosse tipo blu, è proprio azzurro. C'ha un odore. Già. Oh mio Dio, ho gli occhi, ci sono anche gli occhi qui dentro. Gli occhi? Mi sembra... ho trovato qualcosa. Allora, io ho lavato le mani e ho appena fatto il bagno. Sarà questo qua? Qualcosa di... no? No, è un pezzo di... Cos'è? Ma sarà tipo la patata? Sai che dentro il carri c'è... Aspetta, è questo? Cos'è questo? È un polipo forse? È polipo, ma non ci sono gli occhi. Oh mio Dio. Che schifo. Vuoi assaggiare? No. Adesso in questa fase no, lo lascerei così. Allora, io pensavo che c'erano gli occhi tipo qua, no? Ma infatti... Ma invece non ci sono, ma che fregatura. Guarda che bella faccina che ho, che troppo kawaii. Dobbiamo... allora, guarda... Che trash. Guarda che mani, guarda che cesso, mio Dio. Questo è un video veramente... Proprio questo... Mi sa che non lo metto? No, dai, è il video 3 e poi non metterlo. Cos'è che sto cercando? La conosci questa? No, cos'è? Questa strap costa un sacco di soldi, ma... Allora, voi sapete che... Ecco le ultime parole. Guardate. Eh? Si stacca da sola. Ah, si stacca da sola? Si adegua alle varie dimensioni. Oh, che figo! Infatti io, mentre suorirei in Giappone, sono per prendere questa. Oh, e il futuro? Ah, vediamo quanti minuti bisogna metterla nel microonde. Sto guardando il futuro. Non c'è scritto quanto bisogna metterla. C'è cavolo. Ragazzo? Sì, però... Vabbè, io direi di metterlo un... C'è scritto che è il tradizionale carri... La tradizione del carri azzurro che finirà oggi. Umasuo e che... C'è scritto che l'Aji, Umasuo Aji, vuol dire che è al gusto buono. Io lo metterai dentro così e intanto andiamo a preparare il riso. Lo mettiamo nel microonde. Vai. Guarda qua c'è il prezzo. Ho speso ben 10 euro per fare questo video. Il prezzo da pagare per il video. Chiudiamo? Sì, dai, sei pronta. Guarda che secondo me avrei dovuto prendere quello da 5 euro di BioZard. Metti quanto lo vuoi mettere dentro? Dai, di un numero da 1 a 5. 3. Sei sicura? L'attesa dobbiamo preparare il riso. Allora, cosa facciamo nell'attesa? Dai, fai un ballo. Aspettiamo il... Il carri. Blu, che si cuoce. Sei proprio brava, mamma mia. Dovresti ballare in uno dei miei video. La prossima volta. Cioè, di solito si accende la luce e non so perché la luce non si è accesa. Perché è il senso. Secondo me si rifiuta. Allora, bene. Secondo me questa cosa che sembrava una schifezza a confronto sarà la bontà delle bontà. Guardate quanto è contenta Mary. Scusa, Mary, ma per dire Martina. Sei emozionata? Di la verità che sei emozionata. E se comprare questo buonissimo curry? Quel curry blue, dici? Sì, esatto. Perché sarà sicuramente buono. Quindi, vuol dire, nell'ipotesi in cui tu non hai mai visto il mio video, giusto? Perché se vedrai il video, dubito che vorrai mangiare questo buonissimo curry. Poi magari vuoi fare tipo uno scherzo con il culo. Sì, magari a chi è che lo puoi regalare questo? A una suocera? Che odi? Ho un fan di Dragon Quest, per esempio. Per esempio, è bell'idea, sì, sì, sì. Lo puoi trovare al Villas Vanguard. Vi lascio il link qui. Tu ci sei stata? Sì, è un negozio che adoro. Gli ultimi dieci secondi. Sì, quindi ultimi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. No, no, siamo stati troppo veloci. Mio Dio, cos'è questo rumore? Cioè, l'abbiamo riscaldato troppo comunque. No, no, no. Secondo me sì. Mi serve una pezza. E dove ce l'hai? Merry Christmas! Ok. Non mio Dio, è incandescente sta cosa. Non c'è scuttore. Prova a toccarlo. Come provo a toccarlo? L'abbiamo cotto troppo. No. Dici? Vabbè, intanto il riso penso che sia pronto. Il riso che abbiamo preparato, mettiamolo qua altri due minuti. Ci servono ancora due minuti per preparare il nostro curry. E comunque diciamo che è normale fare la cina del curry così. Cioè, i giapponesi quando tornano dal lavoro vanno a comprare la scatoletta del curry e il riso da fare al microonde. E se lo mancano così non sarà salutarissimo, però è sicuramente molto pratico. Vuole levare la pellicola mentre aspettiamo il curry che si fa nella nostra macchina? Tendiamo la pellicola. È il proprio invitante. Cavolo. Allora, ho preparato adesso il riso con molto amore e cura. E adesso lo andremo a stendere. Ma voi su due piatti diversi o sullo stesso piatto? No, sullo stesso piatto. Ok, adesso andiamo a mettere... In realtà bisognava mettere forse prima il riso e poi il curry, ma no. Ma no. Allora, siamo pronti? Sì. Momento epico. Forse coppola la luce. Qui ci devi mettere tipo una musica classica. E vabbè, è Final Fantasy. È Final Fantasy. Sei pronta per assaggiare questo curry? Lo vuoi assaggiare con cosa? Prontissima. Con la porchetta o con gli asci? Cosa usiamo? Cucchiaio. Ho anche porchetta. Allora, sei pronta Mary? Sì. Vuoi mangiarlo te questo? Non ho proprio nessuna cosa bella da dire su questo curry. No, ci stiamo impegnando a trovare qualcosa di bello. Qualcosa da dire, ma proprio dentro da dire, ho detto... Mi ha fatto venire tanto sete, però devo dire che questo curry mi ha fatto venire... Proprio voglia di bere. Di eliminarlo dal corpo. Esci da questo corpo. Non c'è neanche... No, sì, sono... Ti piace il musica? Sì. Tanti stranieri non piace, invece. A me piace tantissimo. Sì, grazie. Sì, togliamoci questo sapore. Quindi abbiamo deciso che, purtroppo, per quanto impegno io e Mary ci siamo messi, perché abbiamo deciso che ce lo mangiamo, proprio è inguardabile, è immangiabile. Non aveva nemmeno la faccettina con gli occhi, non c'entrava assolutamente con Dragon Quest. Me hanno venduto questa cosa. Cioè, la cosa più bella era la scatola. Io pensavo veramente che mi arrivasse il personaggino così, quindi ero tutto eccitato e un po' eccessivo. Però almeno un po' contento, quindi mi sa che... Siamo delosissimi. Sì, farà un game over questo slime carry, vero? Sì, farà un po' eccessivo.